Eccoci con Federica Di Sarra che elimina Jessica Piedi. Federica, un'altra grande vittoria contro una delle giovani più promettenti del nostro tennis? Sì, partivo un pochino favorita perché l'anno scorso ci ho vinto proprio qui, però è passato comunque un anno. Ho fatto già tre partite abbastanza lottate, quindi fisicamente ero un po' più stanca del solito oggi, però ho cercato di fare il mio gioco, di prendere iniziativa e è andata bene. Sei stata eletta outsider del torneo anche per il tabellone che ti vedeva contro Jasmine Polindes, sei il numero uno, hai eliminato anch'essa. Ti aspettavi di fare così bene quest'anno qui al Foro Italico? Sinceramente no, speravo solo di divertirmi e stavo comunque giocando bene prima di venire qua. Ovvio che su questi campi le emozioni a ogni partita c'è, con Jasmine ho fatto un cosiddetto partitone, sono stata brava, poi vengo aiutata un po' dal tifo, soprattutto con Jasmine, c'erano tanti amici che conoscevo, quindi è come se giocassi in casa qui. Però non me l'aspettavo sinceramente. Bene, allora in bocca all'uvo. Crepe, grazie.